ciao amici bentornati abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico però la bolletta non è scesa oppure è calata di poco abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico abbiamo avuto delle rassicurazioni prima di installarlo che avremmo avuto dei risparmi eccezionali in bolletta poi dopo dopo alcuni mesi invece ciò non si è avverato questo è un discorso abbastanza comune capita spesso che molti diciamo proprietari di impianti abbiano questo problema nel senso che continuano a ricevere le bollette le bollette dell'enel o di chi gli dà l'energia comunque sia alte o comunque che non hanno avuto una diminuzione sostanziale nel loro importo questo perché può avvenire può avvenire per una diciamo serie di ragioni non c'è un'unica ragione diciamo che sicuramente bisogna indagare bisogna indagare perché se noi abbiamo installato l'impianto fotovoltaico dobbiamo avere un risultato un risultato che deve essere tangibile cioè dobbiamo avere degli effetti dall'installazione ovviamente di questo di questo impianto sembra una cosa abbastanza banale perché uno è come se dicesse beh ovvio che se mi faccio l'impianto fotovoltaico lo faccio per risparmiare quindi la bolletta deve scendere però vi posso garantire che ci sono molte situazioni in cui questo non avviene perché quindi non avviene oppure avviene in una maniera molto ridotta rispetto a ciò che magari è stato promesso loro è stato poi detto all'inizio prima di fare l'impianto allora l'indagine che va fatta va fatta soprattutto se un impianto ha le batterie o comunque sia gli accumulatori come dir si voglia noi sappiamo benissimo che gli impianti ibridi l'abbiamo già detto tante volte comunque lo ripetiamo hanno necessità per funzionare o meglio per far intervenire gli accumulatori quando c'è necessità che intervengano di un dispositivo questo famoso tia di cui si parla tanto il tia non è né un sensore che controlla la frequenza non è un elemento che sta a verificare chissà quali dati della rete o che controlla chissà quale armoniche della frequenza non controlla nessuna armonica non controlla nessuna frequenza il tia ci dà o meglio dà all'inverte l'indicazione del fatto che c'è o non c'è una un ingresso di corrente dall'esterno se il tia legge un ingresso di corrente dall'esterno perché la legge ovviamente ce l'ha ci trasferisce questo dato sempre si è installato correttamente l'inverter sa che deve far partire così deve abilitare le uscite della della batteria quindi dovrà prelevare dalla batteria convertire anche quell'energia in una energia alternata quindi diciamo una potenza istantanea alternata che forse meglio dire così quindi la deve convertire la deve analizzare il solito discorso e la deve mandare mandare dove al carico di casa logicamente non la deve mandare in rete perché l'energia delle batterie se l'impianto è ben fatto non deve mai andare in rete può avere ogni tanto qualche sul su qualche sussulto qualche piccolo tentati qualche piccolo picco così no però deve finire lì non deve essere una costante assolutamente no la corrente delle batterie deve andare esclusivamente al carico di casa è diverso discorso inverso cioè alcune volte potrebbe capitare che dalla rete si prenda la corrente per andare a caricare le batterie però questo qua avviene solo in alcuni casi particolari ossia quando quando ad esempio c'è un problema di ricarica delle medesime e quindi la batteria per non rovinarsi per non scendere sotto quel 20 per cento di soc minimo quindi che meglio mantenere per appunto allungare la vita delle batterie stesse e potrebbe prendere dalla rete diciamo che fa una specie di operazione d'emergenza l'inverter abilita abilita la diciamo la ricezione di questa energia e la invia alla batteria per rifarla tornare a quel livello di di socco minimo quindi di mantenimento del 20 per cento per non rovinarsi per non mandarla a secco praticamente no per cui diciamo che in questo caso può essere può essere anche una cosa normale che avvenga però il discorso contrario no allora perché potrebbe inviare corrente in rete perché la batteria potrebbe inviare la sua energia in rete perché c'è un problema nel sensore di corrente nel meter in quello che stavamo dicendo prima cioè potrebbe leggere potrebbe leggere la rete come se fosse un carico quindi l'inverte siccome non è che lo può sapere se no non glielo diciamo se quello è un carico e quello o quella la rete per cui cosa fa prende attiva le batterie e voi avrete le batterie sprecate così manderete l'energia in rete e che senza nessuna logica non ha nessuna logica ovviamente perché uno ovviamente si carica le batterie per poi riconsumarsela quando non c'è il sole e quindi questo è un primo discorso quindi verificare veramente se questo è questa piccola centralina che poi se ripeto il meter o il tia sono stati messi correttamente dopodiché se io non ho proprio nessun risparmio perché purtroppo capita anche quello persone che addirittura non hanno non hanno avuto nessun tipo di diminuzione in bolletta zero assoluto 400 euro pagavano prima 400 euro continuano a pagare con l'impianto a quel punto lì sicuramente c'è un problema ancora più evidente più grosso più importante allora l'indagine si allarga no lì c'è da fare veramente un'inchiesta bisogna veramente andare a fondo alla questione vedere bene perché l'inverte non interviene quando c'è il carico di casa e vedere se non interviene addirittura quando c'è il sole quindi addirittura non interviene quando c'è il sole magari lui le indicazioni le dà nel monito però poi nella pratica non ci sta fornendo quell'energia quindi chiamiamo un tecnico abilitato facciamo controllare tutti i flussi energetici con lo strumento adatto ovviamente fra tutti i controlli del caso va bene per adesso finiamo qua io vi mando un saluto un abbraccio e vi invito a iscrivervi se vi fa piacere ciao e alla prossima ciao ciao ciao